Bentornati amici dell'internet in questo fantastico video di algoritmi e strutture dati Nel video di oggi andremo a fare un piccolo giochino, e anche nei prossimi video, per analizzare un pochino insieme le strutture dati In pratica quello che ci poniamo come problema è quale struttura dati utilizzare per i nostri programmi, o meglio Come facciamo a identificare? Esiste una struttura dati perfetta, una struttura dati che ci permette di essere sempre veloci in tutto ciò che vogliamo fare con essa? Generalmente cosa deve fare una buona struttura dati? Una buona struttura dati deve tenere da parte un insieme di informazioni Deve essere facile da accedere e anche da modificare, da espandere eccetera eccetera Per cui quello che ci andiamo a chiedere nel video di oggi è quanto sono veloci gli array In questo semplicissimo gioco come vedete abbiamo due insiemi, abbiamo l'insieme di sinistra che dice, come vedete scritto, che è veloce Quindi andremo a mettere lì dentro ciò che riteniamo che possa essere veloce Mentre nell'insieme di destra andiamo a mettere ciò che riteniamo lento Partiamo da un piccolo presupposto Gli array non sono una struttura dati generale, non sono una struttura dati standardizzata Ognuno la vede un pochino come vuole Per esempio in linguaggio C gli array di base sono statici Per farli diventare dinamici bisogna appunto andare ad accedere alla memoria dinamica Mentre in Java di base gli array sono già dinamici Quindi hanno già una serie di caratteristiche che gli permettono di aggiungere delle cose e di modificarne la dimensione Per esempio un array statico in Java sarebbe l'array di base, non l'array list Sarebbe l'array quello con le parentesi quadre Mentre invece l'oggetto array list è già un array dinamico Dinamico non vuol dire altro che può essere dinamicamente allocato Quindi diventare più grande, più piccolo, ecc Possiamo immaginarci un array un pochino come una biblioteca Se noi riuscissimo a trovare il modo perfetto di organizzare una biblioteca Noi diciamo saremmo a posto Perché quello che vogliamo è trovare il modo migliore per organizzare i dati E capire in fretta se sono presenti quei dati Se dove andare a prendere quel determinato libro, ecc Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo a giocare Abbiamo il nostro, per esempio, facciamo trovare un elemento Sul trovare un elemento dove andiamo a posizionarci? Beh, qua bisogna fare un'ulteriore differenziazione Dipende, nel senso che l'array è ordinato oppure no Se l'array non è ordinato, non c'è santo che tenga Bisogna andare a scorrerlo tutto Perché se no non posso sapere dove si trova E questo è un classico algoritmo di ricerca Per cercare all'interno di un array se l'elemento esiste oppure no Quindi di base bisogna scorrerlo tutto Diciamo che possiamo considerare lo scorrere tutta una struttura dati Per poter sapere una cosa, una cosa abbastanza lenta Diciamo che, anche perché peggio di così non si può fare Se dobbiamo scorrerla tutta sicuramente peggio non si può fare Quindi di base trovare un elemento e una cosa che nel caso degli array si fa in maniera lenta Che cos'è che può velocizzarlo? Può velocizzarlo il fatto che se l'array è ordinato Allora tenere un array ordinato avrebbe delle altre caratteristiche che però non andiamo ad analizzare Quindi ricordiamoci che per il momento ci vorrà o grande di n per andare a trovare un elemento all'interno del nostro array Perché appunto bisogna scorrere tutto l'elemento Potrebbe diventare o di log n se appunto l'array fosse ordinato Ma cambierebbero anche un paio di altre cose Quindi oggi non andremo ad analizzare questa cosa Fatemi sapere se volete parlare anche di come tenere un array ordinato E quali sono le varie difficoltà computazionali Bene, per cui per il trovare un elemento purtroppo abbiamo capito che è una cosa lenta Parliamo ora dell'eliminare un elemento Secondo voi dove si trova? È lento o è veloce? Beh, anche in questo caso ragazzi mi dispiace dirvelo Ma ci troviamo nel caso dove è lento Perché è lento? Perché per eliminare un elemento intanto devo prima trovarlo Quindi per trovarlo se si vuole o di n Per poi eliminarlo non solo ci vorrà o di n Ma siccome l'array è un insieme di elementi tutti vicini fra di loro Chiaramente dopo che l'ho trovato dovrò eliminarlo E poi rispostare ognuno dei singoli elementi che si trovavano a destra del nostro elemento eliminato E rispostare di uno tutto a sinistra In modo tale da non avere buchi all'interno dell'array Quindi se di base già per trovarlo ci vuole o grande di n Per eliminarlo potrebbe volerci addirittura se quello di eliminare è in prima posizione Ci vorrebbe appunto o grande di n per trovarlo E poi un altro o grande di n per andare a spostare ogni singolo elemento Quindi alla fine i coefficienti come sapete non contano Quindi anche in questo caso ci troviamo su o grande di n Andiamo quindi a vedere come aggiungere un elemento Secondo voi è veloce o è lento? Beh diciamo che in questo caso dipende Però magari siete stati portati a questo punto dopo aver detto che è tutto lento Direi che l'array è lento in generale In realtà aggiungere un elemento è una cosa che si fa abbastanza velocemente Perché basta avere in memoria un singolo indice che ci indica dov'è la fine dell'array E si va ad aggiungere sempre al fondo Cosa succede però quando l'array si satura? Quando è completamente pieno? Beh in quel caso come saprete L'idea diciamo fondamentale sarebbe di andare ad aggiungere un quadratino E avere un altro elemento all'interno dell'array in più Questo però per un motivo che sarebbe fin troppo complicato da andare a spiegare in questo video È una cosa che è molto difficile da fare Perché bisogna diciamo avere a che fare con una cosa che si chiama segmentazione della memoria Quindi che cosa dovrebbe fare il computer? Dovrebbe andare a vedere se c'è spazio per aggiungere un elemento E se lo fa bene e ci è andata bene Ma se non ci fosse dovrebbe anche andare a prenderli E a modificarli tutti Quindi diciamo che nel 50% dei casi Se ci va bene siamo a posto E quindi abbiamo diciamo risolto il problema Nel caso però in cui non ci va bene E dobbiamo appunto ingrandirlo Andarlo a ingrandire potrebbe voler dire Doverlo ricopiare tutto in un'altra zona della memoria Perché il sistema operativo ci dice ok puoi andare lì Ti affido quella zona di memoria e sei a posto così Quindi di base perché dico che è veloce? È veloce perché di base ci metterebbe O di 1 Cioè ci mette un'operazione Cioè sapendo già il luogo vai semplicemente a fare una sola operazione in scrittura Però diciamo che si trova un pochino a metà Perché nel caso in cui questo spazio non esiste Diciamo che appunto Toccherà andare a ingrandire l'array Di quanto lo ingrandiamo sto array? Ma lo potremmo duplicare Farlo diventare il doppio più grande E poi quando vediamo che siamo scesi troppo E abbiamo troppi pochi elementi Stiamo sprecando spazio Potremmo ridurlo e ridimezzarlo Poi ci sono diversi modi in cui una persona potrebbe gestire lo spazio Però di base appunto o aggiungere un elemento Toglierne uno ogni volta che eliminiamo È abbastanza complicato Quindi cerchiamo di limitare il più possibile questo tipo di operazioni Quindi aggiungere un elemento E sia veloce nel caso in cui appunto non abbiamo Non dobbiamo sforare l'array Ma nel momento in cui questo diventa troppo grande Sfora le dimensioni che ci eravamo prefissati Questo chiaramente diventa molto lento Quindi una cosa da tenere a mente È per cercare di rendere il più veloce possibile Almeno questa parte Dare una dimensione all'array iniziale Abbastanza grande In modo tale da non cadere Nel rischio di doverlo modificare continuamente Ingrandire e rimpicciolire Per non sprecare troppo spazio E quindi andare a sprecare tempo Per fare questo tipo di operazioni Se il video ti è piaciuto ti chiedo di lasciare un bel pollicione in su Iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto Noi ci vediamo nel prossimo video Dove andremo ad analizzare altre belle strutture dati In maniera concisa, semplice e veloce Spero che il video sia stato di vostro gradimento E alla prossima Ciao